Parla tifoso dell'Azzurra! Siamo tornati con un'altra notizia bollente che ha scosso il mondo del calcio. Restate sintonizzati fino alla fine per scoprire tutti i dettagli sulla presenza degli scout del Chelsea alla partita tra Napoli e Barcellona. Prima di iniziare, insomma, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun contenuto esclusivo. Andiamo! Secondo informazioni diffuse da diversi media inglesi, gli osservatori del Chelsea erano presenti allo Stadio Diego Armando Maradona durante lo scontro tra Napoli e Barcellona mercoledì scorso. Ma perché erano lì? Victor Osiman, il nostro numero 9, è stato l'obiettivo principale di questi scout, che hanno seguito da vicino la sua prestazione. Ma Osiman non è stato l'unico giocatore sotto i riflettori. Gli emissari dei Blues tengono d'occhio anche il talento Jul Conde, difensore blaugrana tornato nel radar del club inglese. Il Chelsea è tra le squadre più interessate a Osiman, e la Premier League sembra essere la meta che il nigeriano sogna di raggiungere. Vale la pena notare che il nuovo contratto di Osiman con il Napoli prevede una clausola impressionante del valore di circa 130 milioni di euro. Non c'è da stupirsi che diversi club tengano d'occhio il nostro capocannoniere. Il Chelsea, però, non è solo in questa corsa. Anche un altro colosso, il PSG, è determinato a fare di tutto per contare su Osiman nella prossima finestra di mercato, soprattutto considerando l'imminente partenza di Mbappé. Allora, cosa ne pensate di questo movimento di mercato? Victor Osiman potrebbe puntare al passaggio alla Premier League? Lascia le tue opinioni nei commenti! Non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al canale e condividere con tutti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti qui a Napoli. Forza Napoli sempre!